Sono particolarmente felici di essere presenti a questo sentito evento nel ricordo del nostro amico e concittadino Pippo Coppola che ci ha sempre manifestato simpatia e stima nel corso degli anni. Il tema della legalità e dell'amnestà intellettuale al mondo sul caro ha in realtà intraddistinto anche il nostro e il percorso formativo di questo anno scolastico che voce anche lui. Attraverso molti attività didattiche per spessare da tutte le discipline abbiamo avviso quanto sia importante oggi. Pippo Coppola Pippo Coppola